giunta mancherebbe solo l'approvazione in consiglio comunale. In sostanza l'amministrazione dell'Aquila per l'ennesima volta è dovuta correre ai ripari mettendo mano al portafoglio per garantire l'avvio della stagione turistica nonostante gli impianti siano ormai vecchi e obsoleti. La delibera di giunta infatti destina 100.000 euro ai lavori necessari per la manutenzione della seggiovia Fontari a Campo Imperatore e altri 20.000 per i lavori necessari alla seggiovia Scindarella. Nonostante tutto lo scontro tra ambientalisti e progressisti degli investimenti sul Gran Sasso rimane soprattutto dopo il parere negativo della commissione via della regione Abruzzo chiamata a esprimere una valutazione di impatto ambientale che ha bocciato di fatto il progetto delle nuove Fontari. Non si possono accettare azioni di disturbo nell'ambito degli investimenti sul Gran Sasso afferma il consigliere comunale Giorgio De Matteis. In realtà nell'arco della legislatura pace in regione vennero approvati proprio su proposte al sottoscritto sia il piano straordinario Scindarella e sia il piano d'area del Gran Sasso. Quindi dal punto di vista urbanistico gli strumenti urbanistici di sviluppo ci sono. Bisogna lavorare sulle aree ambientalmente vincolate. A Cortina è stato fatto. Non vedo perché sul Gran Sasso non si possa fare, dice ancora De Matteis, per colpa di qualche ambientalista di ritorno o furbacchione del parco. Contraria invece la posizione di Giustino Masciocco del partito di SEL che considera una follia modificare l'assetto del parco Gran Sasso e Monti della Laga. All'interno del parco ci sono delle regole da rispettare, si fanno. Ridurre le zone vincolate non credo che permetterà un aumento di turismo. In sospeso comunque rimane la gara d'appalto per la gestione della stazione sciistica, un investimento di 40 milioni di euro che si rimanda ormai da tempo in memore. Grazie. Grazie.